Ormai lo sappiamo, fatti recenti, trasferimenti, eccetera, e decadenze di incarichi direttivi e semidirettivi ci portano ad avere i due più grandi tribunali del distretto, cioè Trento e Bolzano, senza presidente titolare e tutti i quattro semidirettivi del distretto che in questo momento sono oggetto di concorso davanti al Consiglio Superiore della Magistratura.